Vincere una partita in 10 quando sembrava la partita essere soprattutto in salita, visto l'espulsione del granito, una squadra che non ha più aggettivi. No dai, siamo contenti perché, al di là che credo che il risultato sia più che giusto, perché abbiamo fatto un grande primo tempo che potevamo chiuderlo con, secondo me, anche un paio di gol di vantaggio. Poi invece è stato questo infortuno dell'1-1 e lì c'è poi crollato il mondo addosso. Poi appena iniziato il secondo tempo siamo rimasti in 10 e quindi siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante dai fini della classifica, anche se ci sono ancora tante partite da giocare e il traguardo è ancora lontano. Però sono contento soprattutto per i ragazzi, per l'impegno che ci mettono, per l'abnegazione che hanno dal 20 di luglio. Quindi c'è solamente da ringraziare tutti quanti, chi ha giocato oggi, chi oggi era in panchina, era il primo tifoso. Quindi quando ci sono queste cose significa che il gruppo c'è e quando il gruppo c'è in una squadra forte i risultati non possono non venire. Ecco, nel momento in cui sei passato a tre davanti e hai avuto l'espulsione del granito, cosa hai pensato in quel momento? Ho pensato che c'era da soffrire. Ci sta. Purtroppo sono cose che capitano, anche se credo che l'espulsione... Forse c'era nel primo tempo ma non quella dell'espulsione di granito del doppio giallo. Però, ripeto, siccome c'è già capitato di rimanere in 10 e di vincere partite, oggi poi oltretutto l'abbiamo fatto con una squadra tosta che secondo me dopo di noi è sicuramente la migliore. Quindi ho pensato che c'era da soffrire, che i ragazzi hanno sofferto, tutti quanti abbiamo sofferto. Dai, va bene così. Ecco, togli brega e metti dentro palestri. Un cambio che non ce l'hanno tutte le squadre, dopo due minuti ti risolve la partita. La fortuna di avere giocatori importanti messimi a disposizione da una grande società e da un grande presidente. Quindi quando puoi fare questi cambi è ovvio che l'allenatore è agevolato e quindi me li tengo stretti e sono contento di avere una rosa ampia e soprattutto perché poi adesso non abbiamo neanche il tempo di rifiatare perché ho due giorni per preparare la finale di Firenze a cui teniamo molto e quindi è giusto avere una rosa completa. L'abbiamo completata a dicembre, secondo me, in meglio. E quindi niente, dai. Ora pensiamo a mercoledì perché sarebbe una soddisfazione per tutti riuscire a vincere anche la Coppa regionale e poi uscire anche dalla regione per affrontare squadre di altre regioni. Uno stadio stracolmo, quest'oggi al comunale, il buato del 2-1 ha fatto un po' venire i brividi. Bello. A memoria neanche ai tempi della C2 quando ci giocavo mi ricordo tanta gente. Quindi questo è il sintomo di quello che sta facendo questa società, che stanno facendo questi ragazzi. Qui è una piazza che è sentita. Se la gente la invogliamo con i risultati, con le prestazioni, credo che sia la più grande vittoria che questa società che è partita due anni fa dalla terza categoria possa ambire. Quindi la strada è quella giusta e bisogna continuare così, sempre con i piedi per terra e con l'umiltà che ci ha contraddistinto finora perché senza quella non vai da nessuna parte. Grazie a tutti.